Bella a tutti Fortniteers, benvenuti su Leontube, in questo video andiamo a vedere come fare la missione Infliggi danni agli avversari con armi di Star Wars Niente di più semplice, troviamo le armi di Star Wars in questi punti qua, i punti di atterraggio di Darth Vader Li vediamo, 1, 2, 3 e 4, questo qua giù Troviamo le armi anche in giro per la mappa e con quelle sia la spada laser che il fucile Dobbiamo fare danni agli avversari Non contano ovviamente gli animali Ma contano i giocatori avversari Eccolo, questo in questo caso è il furgone Diamo un po' se è sceso E perché non prendo? Eh vabbè sono morto però avete visto che sono aumentati i punti Quindi quello è il modo per fare la missione Avete visto che è comparsa anche l'impasto a sinistra Se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace Condividetelo con questi amici Non dimenticate di lasciare un commento e se vi va come sempre vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Un saluto a tutti, ciao! Ciao!